buongiorno a tutti ben trovati a questo ottavo video tutorial sul compilazione del modello di presentazione di domanda per le gradatorie provinciali d'istituto per le supplenze a degli anni scolastici 24 25 25 26 buona sostanza d'aggiornamento gps andiamo a vedere come si compila l'ultimo l'ultima sezione quella di altre dichiarazioni che tra l'altro è una sezione obbligatoria andando a cliccare su questo altre dichiarazioni notiamo che c'è la come prima dichiarazione del possesso di alcuni requisiti generali che è innanzitutto la cittadinanza italiana cioè il docente l'aspirante docente deve dire se è cittadino italiano oppure cittadino di uno degli stati dell'unione europea o di paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38 commi 1 e 3 bis del decreto legislativo 165 del 2001 o si ha una titolarità di carta blu della ue o ancora se familiari di cittadino italiano deve essere poi di età e dunque si clicca una di queste opzioni non si possono cliccare più di una opzione noi indichiamo di essere cittadini italiani dopodiché di essere di unità compresa fra i 18 e 67 anni all'uno settembre 2024 di godere dei diritti civili e politici di essere in una posizione regolare nei confronti del servizio di leva e nel caso in cui non si dovesse essere cittadini italiani si dovrebbe compilare anche questo aspetto questo termine qui questa opzione ma non nel caso in cui si è cittadini italiani dopodiché di essere iscritto nelle liste elettorali di la provincia di la dichiarazione di assenza e condizioni ostative tipo di non essere escluso dall elettorato politico attivo di non essere stato destituito dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione di non essere stato licenziato dal pubblico impiego presso una pubblica amministrazione di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale e di non essere temporaneamente inabilitato oppure interdetto per il periodo di durata delle inabilità o dell'interdizione di non essere dipendente dello stato dunque di non avere già una dipendenza rispetto allo stato italiano e di non trovarsi in una condizione ostativa rispetto al decreto legislativo 31 dicembre 2012 235 la dichiarazione relativa anche alle sanzioni disciplinari di non avere in corso della sanzione disciplinare o se avere essere in corso in sanzione disciplinare dire dal al e in questo caso dovrà essere valutate la richiesta di iscrizione avverrà con riserva la dichiarazione consapevolezza di accettamento dei requisiti di ammissione riferito chiaramente al fatto che si è consapevole di essere ammessi nel gradatore sempre con riserva di accettamento del possesso di requisiti di ammissione perché qualora i requisiti di ammissione venissero meno si potrebbe essere esclusi e di essere consapevoli che l'amministrazione può disporre in qualsiasi momento e con provvedimento motivato anche l'esclusione dalla gradatoria gps in oltre altre dichiarazioni essere fisicamente idoneo di non avere procedimenti penali di non aver riportato condanne penali o se si hanno condanne penali bisogna dire quali condanne penali si possono si hanno e poi di essere consapevole che le indicazioni inserite sono dichiarazioni sotto la propria responsabilità ai sensi il dpr 445 del 2000 articoli 75 76 di non essere dispensato ai sensi l'articolo 439 del testo unico per mancato superamento del periodo di prova relativamente la medesima classe di concorso tipologia di posto di non essere stato dispensato dal servizio per incapacità didattica e nel di essere immesso in ruolo con riserva questo solo se si è stato immesso in ruolo con riserva ai sensi l'om 88 24 ma altrimenti non si deve cliccare dunque è una rarità questa e poi il consenso della privacy di aver preso visione fare modifica cioè o inserisci nel caso in cui si debba inserire e alla dichiarazione viene diciamo attuata dopodiché c'è l'allegato gli allegati che guardate è una sezione che riguarda solo chi ha titoli esteri allora lo spiega molto bene il la dichiarazione stessa si deve selezionare il file da legare vanno allegati dei file che sono il titolo di studio conseguito all'estero va allegato 2 la dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero per l'insegnamento della conversazione lingua straniera perché condizioni di requisito di accesso va allegato i servizi di insegnamento prestati nei paesi all'estero dell'unione europea o in altri paesi vanno allegati come dichiarazione dei servizi e poi così si può fare un file unico zippato in pdf e si inserisce dopodiché la domanda in ogni caso può essere inoltrata attenzione perché con l'inoltro succede una cosa molto importante una novità in senso assoluto perché l'inoltro vedete determina anche che viene poi visualizzato oltre che la domanda in pdf vedi accedendo all'istanza dopo aver inoltrato la domanda ci sarà un tasto di valutazione della domanda dunque tornando all'om si arriva a questo tasto a questa interrogazione di valutazione della domanda senza un accesso a tale funzionalità e alla produzione specifica il pdf non verrà registrato a sistema il pdf della relativa ipotesi di valutazione andando alla valutazione vedete avete tre tasti visualizzare la domanda annullare inoltre ma soprattutto in verde la visualizzazione dell'ipotesi di valutazione cioè vi da classe di concorso per classe di concorso la possibilità di vedere la valuta l'ipotesi di valutazione proviamo a vedere nel nostro caso ecco le ipotesi di valutazione ad esempio sulla gradatoria 0 27 per cui si è fatta domanda tab 3 prima fascia se andiamo al dettaglio ecco che troviamo il punteggio totale cioè ci si inserisce in prima fascia con 48,0 punti poi c'è un dettaglio anche che specifica come che cosa si è inserito quali titoli sono stati inseriti quanto punteggio è stato dato al titolo di accesso e quanto punteggio sono stati dati ai titoli accademici professionali culturali o ai titoli artistici o nella fattispecie nostra ai titoli del servizio dopodiché si può produrre un pdf ecco questo è molto importante poi si può tornare all'elenco delle classi di concorso vedere anche che cosa è il dettaglio inserito per la dss stessa cosa per il tab 7 ecco l'inserimento del titolo di specializzazione il punteggio il riferimento ai al punteggio del titolo del servizio che sono in questo caso 12 punti perché ci sono dei servizi a specifici e questo ti darà la possibilità di specificare con precisione il punteggio e speriamo che questo tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori seguiteci nei nostri canali facebook perché canale anche youtube perché faremo delle dirette incentrate proprio nella compilazione della domanda passo passo arrivederci a grazie a tutti